Ha fatto molto parlare la lettera dei 600 docenti universitari che denunciavano le scarse competenze linguistiche e grammaticali degli studenti italiani che ora vengono di nuovo chiamati in causa per i troppi giorni di assenza, soprattutto al Sud. I numeri delle assenze degli studenti sono in aumento nonostante l'ex ministro Gelmini avesse stabilito un tetto massimo di ore che non dovrebbe superare il 25% del monte ore annuale, sforato il quale non si può essere promossi all'anno successivo. Il quadro del fenomeno che emerge dai RAV, i rapporti di autovalutazione delle scuole, però racconta altro. In media sono 73 le ore di lezione perse ogni anno dai liceali del Classico, quasi 8 giorni su 100, con la Sicilia a quota 96 che doppia buona parte delle regioni del Nord. Così allo scientifico a contendersi il primato sono Sicilia e Campania, entrambe oltre 100 ore di assenza, contro le 43 del Veneto, le 51 del Friuli e le 52 della Lombardia. Negli istituti tecnici le giornate passate lontano da scuola aumentano, una su otto, e negli istituti professionali si arriva quasi a una su sei. È la Sicilia a detenere il record di studenti assenteisti, mentre è il Veneto ad avere quello degli studenti più zelanti. Analizzando i dati, le regioni per cui i ragazzi vanno meno a scuola sono la didattica, poco coinvolgente, e un eccessivo permissivismo dei genitori. Intanto buone notizie, almeno per il 2017-2018, per gli insegnanti fuori sede, che potranno chiedere il riavvicinamento prima dei tre anni previsti dalla buona scuola.